Diciamo come possiamo recuperare una configurazione dalla mia app. Siccome a partire da Android 10 le app possono scrivere solo le configurazioni nella loro area privata che fra l'altro non è raggiungibile dall'utente, diventa necessario avere a disposizione degli strumenti per poter recuperare queste configurazioni e poterle eventualmente copiare e mettere su un altro telefono se per esempio abbiamo cambiato telefono e vogliamo conservare le nostre configurazioni. Per farlo allora ho sviluppato delle opzioni apposta che vanno sotto recupera una vecchia configurazione. Ok, allora innanzitutto dobbiamo creare la directory che andrà a ospitare queste configurazioni. Siccome appunto possiamo scrivere solo un'app o scrivere solo sulle aree private bisogna abilitarla per accedere ad un'altra area. Innanzitutto creiamo quest'area e il nome di default, potete scegliere quello che volete ma il nome di default, creiamo una nuova cartella che si chiama com.pelix.notify2 questa è la directory di default.notify2 nella quale possiamo andare a mettere i nostri file di configurazione. Ecco, una volta creata, chiaramente questa directory sarà vuota. Allora la prima cosa che dobbiamo fare è abilitare, selezionare directory di recupero perché sennò non avremo la capacità di scriverla. Quindi siamo qui, vedete che siamo in com.pelix.notify2 usa questa cartella, consenti. Ok, fatto questo, adesso abbiamo l'accesso e per backupare è sufficiente, schiacciare backup e configurazione locale. Io ho parecchi file, quindi ci metterò un po' a recuperare i file e una volta che li avrà recuperati vedremo che questa directory sarà stata correttamente popolata con i file salvato. Possiamo andare a verificarlo. Ecco qui i miei file abbiamo detto android.com.pelix.notify2 ed ecco qua, ci sono tutti i miei file di configurazione e ora potete prenderli e utilizzarli oppure spostarli in un'altra directory nel caso che vogliate utilizzare con il mio nuovo Pelix Notification. Rita.